ragazzi siamo qui dovremmo fare un video un video in piscina solo che noi abbiamo bucato e si stronzi ci hanno lasciato qua stipigli di buona mamma ma siamo così arrivati ma si stiamo divertendo diciamo che ci vediamo l'anno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti non l'ho mai capito perché dormono così grazie a tutti